ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua come spesso accade con un altro episodio dedicato a voi che state guardando cioè agli amici del canale che presentano le loro collezioni di orologi tramite video come fare per realizzare il video in orizzontale anche con lo smartphone se siete un po dei poveracci diciamo lo smartphone e massimo 7 minuti dai non andate oltre belli concisi veloci spigliati e poi lo caricate su we transfer.com mi mandate il link e io lo scarico e poi ce li guardiamo qua tutti insieme io li commento in diretta e voi li commentate nei commenti la sezione commenti che è sotto dite la vostra a volte ci divertiamo a volte scopriamo orologi mai visti a volte scopriamo persone particolari anche di pregio persone che vale la pena stare ad ascoltare perché sanno non è che perché io faccio i video so più degli altri ne so meno degli altri ci sono tante persone che ci possono insegnare e noi le guardiamo e apprendiamo una cosina qui una cosina la una cosina la e poi tutto fa bagaglio culturale come si suol dire ora vi mostro l'orologio del giorno che è questo simpatico Cartier Santos quadrante blu numeri romani sul quadrante che sono veramente l'allergia fatta persona ma il Santos deve essere fatto così a noi ci piace tanto noi plurale maiestatis ci piace tanto il Santos finalmente sono riuscito è un periodo ancora qualche giorno che riesco a reindossarlo perché con lo speedmaster con il cinturino di coccodrillo ma mi piace un casino poi lo utilizzo per andare in palestra quindi tre volte alla settimana lo metto vado pomeriggio poi dopo lo tengo ancora un po e poi metto il Santos no ora questi sono questi due orologi quelli che mi stanno dando soddisfazione perché fa il suo perché fanno loro sono degli orologi che vabbè dai passiamo al primo videino quanti ce n'abbiamo una marea buongiorno buongiorno io qualche anno fa mi chiamo federico che bello sono nel frattempo cresciuto spero mi sono laureato farmacia bravo ho incontrato mia moglie federica bene faccio vedere tutti i dati personali non ci stanchessa bene bene e in questo percorso di vita ci sono stati vicini i miei orologi particolare partiamo col primo breitlin crono tour dell'italia che bello a cui ho aggiunto questo cinturino ho sostituito questo cinturino in alligatore blu bello e la fibia breitlin oro giallo originale che è stata non di facile reperibilità bravo per colpo passatemi termini cinturino fibia non so quali essi siano perché non sono un nerd da orologio e vabbè tuttavia l'italiano come potete notare è corretto bravo in seconda battuta c'è stato una decina d'anni fa il gmt master 1 a referenza 16 700 bravo primo polso hong kong 1995 secondo polso io bravo tenuto in modo maniacale si scolorisce già piano piano acquisto d'amore per il design anni 70 essendo nato io a ridosso di metà anni 70 questo tisso prx comprato quest'estate inconsapevole del fatto che mi regalassero questo rolex oyster perpetua 41 41 non so cosa sia penso di si comunque quello maschile regalatemi da mio padre e mia madre e in questo caso mia moglie mentre questo mi ha regalato dai miei genitori bravo ti regali questo me lo son comprato io e questo è un'una di vita facendo pure un elaborato riassuntino bravo ti dovrebbero battere la stessa ora perché li uso tutti alternati mattino posso mettere loistri pomeriggio gemm t la sera il prx e per le occasioni un po' più formali gessate il bright clean hanno tutti come tema tra i nantes il blu che è il colore che adoro e ho contagiato mia moglie con questa mia passione non sono un collezionista non sono un maniaco non sono un nerd le ho regalato in prima battuta questo oyster perpetual nuovo nel 2021 con molte difficoltà ho pagato il nuovo prezzo di listino non avrei dato un euro di più le ho anche regalato un vintage perché volevo che lei avesse sia un nuovo che un vintage dei just come vedete lei se ne sbatte altamente le cosiddette di sincronizzarli di averli giusti però ogni tanto li alterno ogni tanto li usa e concludiamo sempre dal me dal passato augurando buon 2024 a tutti buon 2024 ringraziando questo 2023 che è stato splendido dove andiamo? che fai? ah è un video un pochino così mistico lo direi mistico dove la il culto della personalità la fa da padrone lui che diventa il bambino che diventa grande e poi ci fa vedere lui bambino eh vanno interpretati questi video no? va bene stavo quasi per mandarti a quel paese tra virgolette naturalmente perché degli orologi che hai due te li avevano regalati il Rolex GMT e l'Oyster Perpetual il Rolex il Brightling era una un lascito un'eredità l'unico che ti hai comprato il PRX quello che costa meno proprio l'unico comprato gli altri te li hanno regalati poi però ti sei rifatto perché ne hai regalati due la signora e allora lì abbiamo capito che sei anche generoso che sei essere generoso però per te non li spendi i soldini eh stai un pochino con le braccine con le vipere in tasca c'hai le vipere in tasca metti le mani in tasca ci sono le vipere le togli e niente non si può spendere bravo ci fai piacere comunque belli orologi poi hai anche indicato l'ambito nel quale intendi indossarli io ti invidio perché proprio l'ultima cosa che faccio è quella di pensare all'orologio nel momento in cui devo indossarlo quando mi va ad indossare il santo se lo indosso se vado all'essere lunga lo indosso uguale che mi frega a me cioè capito comunque complimenti sia per l'esposizione che per gli orologi bravo 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 prossimo video ciao Davide ciao sono Slavo ti mostro la mia la mia piccola collezione di orologi dopodiché quando vado a Firenze ora mi trovo a Soffia e ti faccio vedere quella che che c'è a Firenze bravo gravo vedo che sei proprio cioè spigliato nel parlare ci hai messo mezz'ora per dire che mi presenti la collezione questo si sapeva già comunque noto anche una bella tovaglia lì cioè proprio veramente il peggio del peggio cos'è è una situazione diciamo provvisoria è un accampamento questo perché non vedo non vedo l'ordine vabbè se ti trovi in un seminterrato diciamo va bene continuiamo mostro questo bellissimo orologio cos'è? che è di manufattura russa di una città che è chiusa perché produce solamente tecnica militare c'è gli abinschi si chiama questo orologio e praticamente quando lo carichi dura dieci giorni tre ricarichi praticamente quasi un mese ecco bravo sai fare conto questa parte si ricarica anche pesante puoi spaccare la testa qualcuno però non c'è a sveglia non so se lo metto nei tanki non ho idea allora ti faccio vedere un altro orologio molto interessante sì che funziona amoro non le voglio caricare anche perché mio figlio sta dormendo è di origine tedesca mi hanno un po' ristrutturato ristrutturato a Sofia e sta funzionando con un po' di ritardo diciamo bravo ristrutturare però le case ora ti mostro un piccolissimo orologio che è della mia mamma Onza è una ditta praticamente svizzera ma funziona perfettamente e lavora finora bravo il gatto simpatico miau un altro orologio questo è ereditato dal mio zio non so se se si può prendere il fuoco se può prendere fuoco si prende fuoco è un casino funziona anche quello a Firenze mi hanno ristrutturato ristrutturato è tutto originale e cos'è di questi rettangoli diciamo con una rettangoli vedi questa un po' simile a questi giochini che fa cavalli proprietà di linguaggio è un altro orologio di origine russa è praticamente slava con la data abbastanza interessante anni 70 e da questa parte si cambia anche la data è certo spesso orologi russi imitavano quelli svizzeri ovviamente ok vuole uscire è un come dicevi spesso quarzone si chiama a quarzo si chiama al quarzo va bene e questo sarà già anni 85 90 molto probabilmente ma sì ok grazie mille e alla prossima puntata quando vado a Firenze che parto domani bravo ti presenterò anche quell'altra parte del mio colazione bravo grazie a presto a presto ciao 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 gatto e niente non ho capito se sei straniero se sei straniero ritiro tutto altrimenti la proprietà di linguaggio la velocità la spigliatezza sono venute un po' mancare per il resto gli orologi sembra un po' di essere a vedere il cassetto delle cianfrusaglie ora non ti offende nel senso che tutti carini i vintagini le sveglie l'orologio piccolino della mamma va bene tutto carino è un aspetto del collezionismo sono curioso di vedere la seconda parte dove magari c'è i orologi un po' moderni o vintage di qualche particolare interesse che non siano insomma da bancarella russa dei polacchi vabbè comunque anche questo fa parte del collezionismo per l'amor del cielo le due sveglie sono particolari cioè ci vuole la passione per quel settore lì a me sinceramente delle sveglie un me frega niente e vederle non vederle però magari quattro gli amici del canale sotto ditemelo ci sono anche appassionati di questo settore le pendole magari le sveglie cioè gli ingranaggi sono dentro un sacco di altra roba poi il look ultimo lì che mi hai fatto vedere mi viene in mente che io una volta look look come voi direte questo qui è il quarzo mi immagino dentro cosa c'è perché io avevo comprato un look come volete monolancetta bello monolancetta automatico a carica manuale io l'ho aperto dietro e c'aveva un calibro per orologi da donna veramente piccolissimo al centro con intorno tutta la plastica bianca era veramente un obbrobrio da vedere è andata così mi immagino quello lì che è il quarzo uguale sarà una nocciolina di movimento messo lì comunque prossimo video ciao davide sono davide da martina franca un paesino in un paesino in puglia eccole noi ti voglio aggiornare sulla mia sulla mia collezione di vantai circa un annetto fa una collezione vasta di 5-6 titizen al quarzo quindi ecodrive ma perché parlate tipo smr no se dovete fare un video vi vergognate di farlo non fatelo se invece dovete farlo fatelo in modo che possiate parlare con un tono di voce abbastanza importante in modo che tutti possano ascoltare qua mi tocca alzare anche il volume con questa voce sottovoce come Marzullo sottovoce allora nell'ultimo periodo subito dopo aver visto o meglio avresti mandato il mio video ho preso questo pilot radio controllato bravo molto bello molto preciso nonostante sia un 43 è morto indossabile perché ha delle anse davvero molto corte oltre che un bracciale ottimo è un ottimo vetro zaffero molto leggibile quindi è un imbroglione però ci sta è un è un modello che contraddistingue proprio la casa della titizen un piccolo ritrovamento è stato a quanto pare mio padre già li acquistava primi anni 2000 un titizen eco drive dopo circa 23 anni ha necessitato di un cambio di accumulatore 23 anni direi che mi sembra un gran bel lasso di tempo per ricevere una manutenzione probabilmente andrebbe fatta anche prima però 23 anni per cambiare l'accumulatore quando uno dice si l'eco drive sfrutta la luce solare per caricare per mandare avanti il movimento però c'è l'accumulatore insomma la batteria va cambiata ogni tote ma anche l'accumulatore però va cambiato spesso 23 anni è durato avrà il suo vantaggio rispetto a una batteria ce la si non so però quanto è costato se costa la somma di tutte le batterie e anche più però non credo e adesso è perfetto rispetto al radio controllato non perde neanche un secondo prende circa due secondi e qualche millesimo al mese quindi davvero un'ottima precisione davvero buono l'ultimo orologio che è stato il mio primo orologio automatico è stato questo il Vagari Vagari di Armatic 101 automatico sì sì simpatico molto bello grigio con questo cinturino in pelle diciamo simil cuoio molto bello 41 mm forse il più indossabile che possiedo in questo momento un quadrante molto bello molto dimensionale con tutti gli indici applicati si vede che è un po' un calibro non troppo pregiato sia per le finiture evito anche di toglierlo dal polso per far vedere il movimento anche per quanto riguarda la precisione circa più 6 più 7 secondi al giorno quindi forse si poteva fare un finino di meglio ma questa è la mia collezione sto per acquistare un altro orologio quasi sicuramente di un indeciso tra un Seiko 5 e un Citizen Sujusa fammi sapere cosa ne pensi di questo piccolo aggiornamento e attendo una tua una tua risposta per il mio prossimo acquisto un saluto a tutti un saluto anche al mitico amico Piero che secondo me è il vero boss di questo canale ciao a tutti bene così ora non ti pubblico così impari il fatto che ti lamenti dei più 6 più 7 secondi di un Miota 8000 all'interno del vagari che costa 100 euro la dice lunga di quanto non capisci mi trattengo diciamo come già un orologio a 100 euro con dentro il Miota 8000 che è un calibro di quelli entry level ti fa più 6 più 7 secondi al giorno e dici si poteva fare meglio ma dove cavolo vivi cioè più 6 sarebbe già dentro le specifiche di un orologio COSK o è meno 6 più 4 vabbè siamo lì cioè ci mettere la firma su qualsiasi orologio ad avere più 6 secondi al giorno e te ti lamenti se poteva fare meglio cosa vuoi ti poteva capitare meglio ma a fortuna che poi magari non dura ti poteva capitare più 4 più 4 poi magari dopo un mese ti fa più 7 più 9 sono calibri così non sono tarati regolati costruiti per avere la precisione nel tempo a tutte le temperature in tutte le posizioni ok cavolo va benissimo più 6 più 7 ma per l'amor del cielo poi vuoi comprare un 6x5 o un Ozzuiosa io guarda direi è uguale c'è comprare quello che vuoi però con l'Ozzuiosa ti toglie un po' quello sfizio di avere l'orologio con il bracciale integrato che fa un po' da figli ecco 6x5 c'è anche qualche 6x5 con il bracciale integrato però da buttare sull'Ozzuiosa poi magari prendi anche un 6x5 così ti fai un insieme di orologi magari ti prendi un 6x5 Field Watch Field quelle lì o anche GMT però insomma dove vai vai non sbagli sono orologi decenti dai prossimo video buonasera Davide io sono Federico da Ferrara e oggi ti mostro i miei orologi che sono adesso della mia storia si parte con il Federico giovane studente che si accorge che è essenziale il controllo del tempo per ottenere i risultati che vuole ottenere nello studio negli esami di conseguenza si parte con qualcosa di molto semplice che non è nient'altro che il classicissimo swatch però Federico Bassista metallaro voleva uno swatch tutto nero leggibilità veramente scarsissima ma ai tempi non avevo nessunissimo problema infatti mi bastava un po' piegare il polso verso una fonte luminosa e riuscivo comunque a leggere l'orario ma certo bravo bravo Bassista poi arriva il momento in cui Federico si laurea e decidono di regalare un festina festina finto cronografo orologio finto al quarzo ovviamente mai messo e nonostante questo si è beccato un bel graffio sulla lunetta benché io non l'abbia neanche mai indossato avanti così ma è il momento dei fashion watches e quindi per la sua laurea si fa regalare Federico dagli amici proprio lui un bel Daniel Wellington che vediamo essere stato usato un bel po' guardiamo qua anche il cinturino e soprattutto oltre ai grafichi si è beccato anche le lincette che in questo momento sono saltate via ovviamente sappiamo tutti Daniel Wellington di cosa stiamo parlando ma ai tempi era sul polso di chiunque era un anonogio che volevo avere e ci sta devo dire che ha veramente subito mille maltrattamenti e vissuto con me mille viaggi mille battaglie di conseguenza aveva anche sui lati positivi il fatto di essere così sottile ha fatto veramente quel periodo Daniel Wellington e quegli anni lì della mia vita bravo ti trovavi bene successivamente un orlogio senza tanti sbattimenti quando vuoi stare tranquillo non vuoi notifiche non vuoi sbattimenti di sorta vuoi un orlogio leggerissimo e soprattutto economico da maltrattare ti metti lui e stai a posto finora non stiamo andando tanto bene nella storia di Federico che poi parli in terza persona cioè capito ti dai anche un tono nella storia di Federico non è che stiamo andando tanto bene tra mezze ciofeche ciofeche reali digitali si migliorerà Federico dai poi tramite te e tramite altri youtuber arriva il tunnel degli orologi automatici decido di andare a prendere il mio primo orologio automatico e senza tanta consapevolezza va a finire che compro lui devo dire forse il mio orologio preferito sono molto contento GMT 6.5 vale secondo me quello che costa è un orologio molto più riferito rispetto agli altri 6.5 la freccia rossa a contrasto soprattutto su questo qui a sfondo nero nero è più bello e tanta tanta roba e soprattutto si va direttamente col bracciale jubilee a maglie piene finali pieni bello orologio non ho niente da dire il movimento lo conosciamo tutti a vista ma d'altronde questo non è un diver 100 metri quindi chi se ne importa ma chi se ne importa successivamente voglio andare su un Seiko a ghiera Pepsi e prendo lui qui ho avuto purtroppo un inconveniente con ebay perché provo a farvelo vedere il vetro è graffiato e purtroppo il venditore non mi aveva specificato questa ha usato l'hai preso anche qui il fondello a vista e purtroppo questo non è il fermo macchina a differenza del Seiko precedente qui mi è sembrato un po' di fare un passo indietro soprattutto per i finali che non sono pieni un po' ferraglioso non mi convince del tutto mi è sembrato un po' di fare un passo indietro rispetto al Seiko che abbiamo mostrato precedentemente successiva ma quando si prende un Seiko 5 conviene prenderlo usato io mi domando perché insomma siamo a dei livelli di prezzo che è abbastanza terra terra che uno fa uno sforzino in più e se lo prende nuovo è del primo ad averlo è graffiato molto graffiato anche il bracciale il vetro il vetro lì è un peccato perché cioè è vero che sono vetri hardlex minerali che si possono graffiare ma per graffiare anche un vetro così ce ne vuole perché tutti quelli che mi sono passati per le mani insomma ce ne vuole vuol dire che lo devi utilizzare da battaglia come si suol dire e costui l'avrà utilizzato da battaglia quindi per spamare qualcosina ti sei preso un usato che è usato è veramente usato però magari nuovo era meglio ero sempre a ricerca di una ghiera Pepsi e ho trovato lui lui Seiko dei anni 90 esattamente come me Seiko al quarzo 150 metri comprato dall'Inghilterra in questo caso nessun problema venditore super serio è arrivato tutto nei tempi tutto come doveva essere è un 36 mm o 38 comunque più piccolo degli altri due che vi ho mostrato fondello chiuso con la sua bella ondina molto soddisfatto anche se al quarzo mi piace molto questo orologio e più che altro magari non si vede dalle immagini vedo che il vetro è un po' opacizzato volevo chiedere se poteva essere qualcosa dentro come trattarlo se trattarlo oppure teniamo così non ne ho la più palida a terra non lo vedo nemmeno qua e per finire l'orologio che da bambino avrei stilizzato se mi avessero detto disegna l'orologio che hai in mente senza neanche sapere che si trattava di lui avrei disegnato lui e di conseguenza questo è veramente un orologio strepitoso che ovviamente tutti conosciamo e qui di fianco vediamo quelli che invece sono degli strumenti imprescindibili secondo me nel 2023 per il monitoraggio della nostra salute per gli impegni nel momento in cui sei veramente impegnato avere un Apple Watch al polso fa la differenza ma questo è un canale che parla di altro però su questo canale si vedono anche tanti G-Shock allora vi dico io piuttosto che prendere un G-Shock ho G-Shockizzato il mio precedente Apple Watch con questo band che veramente lo rende rugged infatti bello vissuto anche dai graffi come vediamo va bene questi erano i miei orologi ti ringrazio per l'attenzione ciao a tutti quelli del canale ciao 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 minaccia sempre perplesso no perché sai è facile far passare gli orologi falsi qua sul canale perché io li vedo così dal video così veloci da lontano sono una cipia se è vero se è falso quello Rolex però mi lascia il dubbio mi viene sempre il dubbio uno che compra un secco 5 poi un secco 5 è usato un secco al quarto dall'Inghilterra e poi salta fuori con l'insubmariner mi viene sempre il dubbio a quel punto lì ma sarà vero o sarà falso questo orologio qua siccome non lo so riconoscere io il beneficio del dubbio lo do a tutti se poi è falso è peggio per te che ti bei di mostrare un orologio in video cercando di farcelo passare per vero cercando di fregarci io metto le mani avanti perché non sono in grado di riconoscerlo l'unica cosa che mi fa strano è che tre orologi tirati per risparmiare addirittura un secco 5 usato e poi salti fuori con il submariner ci sta ci sta però a quel punto lì mi viene un po' di dubbio mi viene un po' di dubbio ragazzi se riconoscete qualche difetto nell'orologio che mi sembra falso scrivetelo nei commenti così mi aiutate perché io non è che sono onnisciente al prossimo ciao Davide sono Lorenzo dalla provincia di Como oggi ti faccio vedere la mia collezione di orologi ma va non mi perdo troppo in chiacchiere vado abbastanza spedito ti faccio vedere subito questo Citizen questo qui è il il Citizen NH8380 questo qui è un po' grandicello 46 sono 45 anzi quasi 46 mm di diametro cassa gli ho cambiato il cinturino ho messo questo cinturino qui in gomma che a me piace di più quello originale comunque io l'ho tenuto ma era troppo rigido non mi piaceva nelle forme allora ho trovato questo qui l'ho preso in Croazia tra l'altro vacanza nella quale l'ho usato proprio per fare snorkeling così piccole immersioni nulla di che te lo faccio vedere anche al polso ora io no 46 uno dice ma è da scartare subito a priori per chi non è proporzionato però mi sta venendo anche a mia voglia questo qua tutto nero da 46 secondo me in determinate occasioni come ha detto lui a fare snorkeling in Croazia oppure al mare oppure vai a fare una gita su un gommone un bello orologio da 46 presente tutto nero fa anche la sua bella figura secondo me cioè ci sono situazioni situazioni chiaro che non è da indossare cioè non mi darebbe quel senso di pregio di proporzioni corrette nel momento in cui lo indosso per andare anche solamente in giro in città nelle situazioni urbane non mi darebbe soddisfazione non farebbe il suo invece nelle situazioni acquatiche ma anche una festa in piscina che ne so d'estate col cocktail questo 46 nero così ci sta ci sta tutto quindi mai denigrare in assoluto una data misura perché è troppo grande o al contrario anche perché è troppo piccola ci sono le occasioni per tutti gli orologi poi è chiaro che se un orologio è 40 41 è adatto in ogni situazione ti conto che io comunque ho un corso anche abbastanza esile però devo dire che ha il suo perché se non è usato poi nel giusto contesto bravo bravo ti faccio vedere sempre rimanendo in casa per così dire promaster questo qui è l'MY0120 è quello nuovo 200 metri coronavite 41 mm di diametro cassa è veramente un bel bracciale rispetto diciamo al promaster classico quello che conosciamo tutti è molto molto meglio mi piace anche la ghiera scusami la ghiera 60 scatti te lo faccio vedere al polso ora questo qua mi dice tutti lo dicono che non l'ho mai provato io dicono che ha un bel bracciale rispetto all'NY0040 il classico promaster e a me mi dispiace perché io la versione che intendo comprare è quella con il cinturino in gomma perché lo voglio usare semplicemente per la stagione estiva per lo più e quindi il bracciale non mi serve visto che quello con il gomma costa meno risparmio qualcosina e poi magari ci metto anche un nato hai capito quindi per me il bracciale sarebbe superfluo per quello per il mio obiettivo per quello che lo voglio utilizzare io quindi probabilmente lo prenderò senza bracciale ci sta anche se è fatto bene mi spiace bello dai 41 automatico un po' spesso ma va bene tra l'altro quando l'ho comprato mi aveva dato anche la bombola quindi sono stato anche abbastanza fortunato arriva con quella lì da quanto ho capito non la danno proprio sempre vado avanti e ti faccio vedere questo orient orient ray 2 colorazione blu questo mi piace veramente tanto mi piace veramente tanto l'ho usato e lo uso parecchio un po' la ghiera preferisco quella del citizen decisamente di entrambi i citizen è un po' la sento un po' macchinosa un po' un po' dura però anche questo è un po' bracciale l'unica cosa qui bracciale diciamo rimane sempre la stessa misura quindi ti faccio vedere è sempre uguale non si restringe io personalmente preferisco invece magari che si restringa un pochino ottimo orologio mi piace diciamo che non rastrella 200 metri non rastrella e poi questo qui ha questa protezione qui per la ghiera che invece per la corona che invece nel citizen non c'è allora è vero continuo ah poi ti faccio vedere un quarzone eh no però questo qui mi ha regalato mio papà è un braille manta degli anni 90 con questa colorazione qui verde ti dico la verità io lo uso è bello è bello non mi dispiace è bello tra virgolette è bello non mi piace però è bello perché è rappresentativo degli anni 90 della Braille no ci sta ci sta poi si ti ha regalato il babbo allora per l'amor del cielo un motivo più per tenerlo anche per usarlo ci sta ogni tanto lo metto bravo non so quanti millimetri siamo penso 38-39 così a vista secondo me anche bello anche bello dai anche bello mi lancio ti faccio vedere 6,5 eccolo qua ecco classicissimo elegante Seiko 5 questo qui adesso gli cambierò il cinturino sicuramente almeno gli metterò un cinturino adesso c'è questo bracciale qualità veramente veramente cheap d'altronde comunque è un orologio economico quindi con quello che lo si paga non c'è da aspettarsi molto ecco qui te lo faccio vedere direttamente al polso polso piccolo perché sto qua è piccolino di orologio ok questa diciamo questo è quanto grazie per lo spazio complimenti per il canale continua così ciao 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 e niente oggi tutti i orologi entry level diciamo a parte l'amico quello con i 4 super orologi e il rolex di prima poi la base la radice di ogni collezione è composta da orologi entry level ma anche questa collezione qua ha il suo senso ha il suo perché i due citizen mi piacciono un casino il promaster marine l'ho detto è uno di quelli che voglio prendere io quello nero grosso ci sta tutto e addirittura anche il braille al quarzo lì verdino mi piace a un certo punto mi piace chiaro che non lo comprerei perché non ho nessun interesse ad averlo in collezione però se te lo vedo al polso magari in giro ti faccio anche i complimenti perché mi piace mi piace mi piace e poi qua l'ultimo secco 5 che è un classico un secchino 5 ci sta sempre non sfigura mai non è come il tocco di peperoncino sulla pasta ci sta ci sta bravo prossimo video ciao Davide ciao un breve video per farti vedere la mia piccola raccolta di orologi ancora agli inizi essi perché praticamente l'ho iniziata da agosto ma dai quando ho iniziato a seguire il tuo canale perché cercavo qualche informazione sugli orologi automatici avevo visto un bellissimo EVC non avevo la minima idea di come funzionasse un orologio automatico e vedendo il tuo entusiasmo vedendo l'entusiasmo con cui parlavi di questo movimento ho approfondito e mi ha affascinato io prima consideravo l'orologio meccanico come una sì una rottura di scatole da dover caricare non avevo la minima idea di quale potesse essere il pregio dietro ad un orologio automatico e tu me l'hai fatto scoprire quindi la mia passione per gli orologi automatici non è iniziata anche grazie a te ma è iniziata soltanto grazie a te piccola premessa grazie queste sono piccole soddisfazioni riuscire a far capire alle persone perché se non ti frega niente degli orologi e degli orologi automatici anche se guardi dieci dei miei video non è che ti appassioni non ci sei non ce l'hai proprio dentro invece ci sono persone che hanno la passione all'interno latente come si suol dire e gli basta un piccolo input per poi dopo far crollare le barriere e come una cascata tutto il resto viene quindi a questa persona gli è bastato vedere qualche video uno forse e poi gli è scattata la molla l'interesse per approfondire per capire per studiare e poi chiaramente se ti appassiona questa cosa qua ti fai prendere la mano e inizi a collezionare prima di incontrarti diciamo così io consideravo la tecnologia una delle tecnologie che mi piaceva di più quella dei Citizen Echo Drive ne avevo tre che ho comprato nel corso degli anni dal 2011 in particolare questo ma hai fatto bene cioè non è che è sbagliato come concetto la tecnologia di Echo Drive della Citizen è avanzata è valida cioè ha un gran bel senso di esistere cioè sarebbe l'orologio perfetto se non fossimo malati degli ingranaggi quello sarebbe l'orologio perfetto economico affidabile preciso che non ha bisogno è anche ecologico che non butti via le batterie quello sarebbe cioè nessuno toglie niente agli Echo Drive di Citizen perfetto solamente che poi ti appassioni all'orogeria meccanica e la tecnologia non ti interessa più ti interessa più la tecnologia applicata però all'ingegneria meccanica che è un'altra roba cioè riuscire ad andare precisi nel tempo utilizzando solamente degli ingranaggi delle molle delle levette è un oscillatore che fa così dal quale parte tutto è il punto di riferimento diventa l'oscillazione capisci bene che è molto più interessante se sei appassionato se no viva l'Eco Drive in particolare questo 2012 12 questo e sono sempre andati molto bene senza nessun problema poi ho preso questo 4-5 anni fa e appunto ad agosto da quando ho iniziato a come dire a a sbroccare a interessarmi a piacermi la questione degli orologi automatici ho guardato tutti molti quasi tutti i tuoi video dove gli amici del canale mettono in mostra i propri orologi ho imparato conoscerne ho imparato conoscere degli orologi di cui non avevo neanche mai sentito parlare e così ho iniziato diciamo ad avvicinarmi all'acquisto di un orologio automatico per adesso ne ho due il primo come ti dicevo iniziando ad agosto a seguirti settembre ho fatto il primo acquisto dicembre il secondo e adesso siamo al 21 di febbraio quindi al 21 di gennaio scusami quindi sì non è passato molto tempo ecco questo è il primo acquisto il primo orologio automatico un Seiko 5 field che mi è piaciuto molto e niente è stato il mio ingresso nel mondo degli orologi automatici meglio di così a dicembre ho deciso di fare un saltino boom un saltino in avanti avevo guardato diversi orologi uno che mi era piaciuto molto era questo il Mido Ocean Star 600 oh bravo avevo guardato anche il Mido Ocean Star 200C il 200 poi ho detto beh sai cosa c'è adesso mi cavo la voglia e ho preso questo ero deciso tra la referenza col quadrante blu e quella nera appunto sarei tuttora indeciso perché mi piacciono molto tutti e due dovendo sceglierne uno ho preso quello nero ah sì perché mi sembra un po' più come dire adatto ad ogni situazione un po' più meno evidente anche se quell'altro era un blu scuro era veramente molto bello soprio potendogli avrei presi tutti e due detto questo ti faccio semplicemente notare che siamo al 21 di gennaio sono le 17 e 18 questo orologio segna le 5 e 17 praticamente non è mai stato regolato se non dal gioielliere che me l'ha venduto l'11 di dicembre questo è quindi sono un mese 10 giorni che non viene mai regolato lui l'ha regolato guardando i minuti con il suo cellulare ma non è stato sicuramente a sincronizzare i secondi quindi diciamo che ho una grossa soddisfazione dopo un mese 10 giorni diciamo che è leggermente indietro di un mezzo minuto e quindi sono sono estremamente contento del mio acquisto bene non ti rubo altro tempo ti aggiornerò con nuovi senz'altro con nuovi acquisti e ti ringrazio per tutto grazie ciao Davide ciao 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 ma sì ormai abbiamo imparato a capire che i calibri di dieta quelli con 80 ore di riserva di carica come in questo caso qua sono piuttosto precisi nella media già da quando escono dalla fabbrica vengono regolati il bilanciere viene equilibrato al laser asportando materiale zin 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 no? e quindi è già equilibrato appena esce una piccola regolazione e per la maggior parte dei casi sono precisi questo è il lato positivo poi l'altro lato positivo è che se non sono che se non sono regolati bene c'è qualche problema il servizio clienti di Mido è uno di quelli più efficienti e quindi risolve il problema sono cose che contano queste anche quando si va a acquistare un orologio boh niente mi fa piacere che ti sei appassionato agli orologi meccanici guardando i miei video che non è tutto qui devi anche poi integrare le informazioni che trovi andando a studiare anche in rete o con dei libri la materia è veramente ampia non si finisce mai di imparare come in ogni ambito però qui è ancora a maggior ragione i due orologi automatici che hai preso sono belli il classico 6.5 field che suggerivo prima all'amico è quello lì e il Mido Osha Star di 600 tra l'altro in casa Mido ora in questo periodo qua uscirà un paio di belli orologi novità uno da 40 e uno da 39 mm proprio belli proprio belli l'ho visti io che secondo me avranno un grande successo va bene ragazzi ah mi sembra davvero detto tutto non è che possiamo stare qui a pettinare le bambole all'infinito io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua aver guardato i video con me avere mandato i video a me e vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio il più spesso possibile qui su youtube lave e vi ricordo